musica iscriviti al canale Sì, siamo incontrato. non è facile credi che ci vatti subito così ti scaldi un po' poi dopo inizia a camminare ma lì c'è anche trovato ma lì buona paura non sono più attorno e tutti le mani se catti al centro Grazie a tutti. Grazie a tutti.